Buoni amici, il nostro materasso dovrebbe offrirci il massimo del comfort e della comodità nel sonno, ma qual è il migliore sul mercato? In questo video, vedrai 5 materassi in base alla loro durezza, elasticità e durata, così potrai decidere quale comprare. Nella descrizione e nel primo commento hai i link per l'acquisto dove puoi controllare il prezzo, le caratteristiche e le offerte disponibili. Sei pronto? Iniziamo! Nella top 1, d'Agostino, Home Florida. Partiamo forte con l'opzione più economica della lista, che di solito è intorno ai 90 euro. È un materasso che offre qualità e durata. Questo modello di 90 cm x 190 cm ha un'altezza totale di 20 cm, è reversibile, e il suo tessuto 3D è termoregolatore, progettato per l'estate, dove si crea un flusso costante di aria all'interno del materasso, riducendo la temperatura. È fatto di viscoelastico, che modella il tuo corpo, e ti dà l'effetto dei massaggi grazie alle sue molecole. Inoltre, è composto da 2 cm di lattice e fibre di poliestere siliconate, che forniscono una morbidezza extra, per rilasciare la tensione muscolare e ottenere il riposo ristoratore di cui avete bisogno. Spiccano le sue 7 zone di comfort, più forti al centro, dove si concentra il maggior peso, e progressivamente più morbide verso la nuca e la testa. Il suo nucleo è altamente resistente, il che fornisce una maggiore fermezza all'interno del materasso. È anche un alleato della vostra salute, poiché è antiacaro, antibatterico, antimuffa, antistatico e antiallergico. In breve, un materasso molto completo, che ha la valutazione positiva di più di 1300 utenti, e quindi, possiamo solo consigliare il suo acquisto nel link della descrizione. Nella top 2, Pocket Visco Reversible. Continuiamo con un modello economico di una marca con una grande reputazione e qualità. Questo modello, che si può trovare a meno di 100 euro, ha il vantaggio di essere reversibile, quindi può essere usato sia d'estate che d'inverno, e offre la fermezza e la morbidezza di cui hai bisogno. Si tratta di un materasso di 90 cm x 190 cm, con un'altezza di 20 cm, che ha un nucleo di schiuma a cellule aperte, molto traspirante, per un perfetto supporto della colonna vertebrale. Il suo lato invernale è fatto di tessuto elastico ad alta grammatura, più 2 cm di viscoelastico o di alta qualità. Ha uno strato super morbido e fibre antiallergiche per fornire il calore e il comfort necessari in questo periodo dell'anno. Il lato estivo ha un tessuto 3D, super traspirante, con fibre ipoallergeniche e uno strato super morbido, per una maggiore freschezza. Spicca il suo lato nero, realizzato con tessuto 3D, che migliora la ventilazione del materasso. Ha anche trattamenti antiacaro, antibatterici e antifungini. Con una valutazione di 4,3 stelle su 5 e il prestigio del suo marchio, questo materasso viscoelastico è uno dei migliori per il suo rapporto qualità-prezzo. Ricorda che hai tutti i prezzi, le offerte e le opinioni nei link della descrizione e nel primo commento del video. Nella top 3, Dormio Zafiro. Entriamo nella fascia media con una delle migliori marche sul mercato. Dormio, ci offre una qualità estrema nei suoi prodotti. Questo modello, comodo e con una ventilazione ottimale, vi darà il riposo che vi aspettate. Il materasso Zafiro, 90x190 cm, è largo 21 cm ed è imbottito con 3 cm di viscoelastico. Questo garantisce un livello superiore di comfort, insieme a un nucleo di resilienza indeformabile, garantendo un buon sonno. Ha un lato trapuntato con tessuto 3D, super traspirante, ottenendo una ventilazione ottimale all'interno del materasso. Inoltre, nelle sue fibre tessili troviamo un trattamento antiacaro e antibatterico, che aiutano a prevenire le reazioni allergiche e a migliorare il riposo. La sua imbottitura si distingue, garantendo la posizione ottimale della colonna vertebrale, in quanto si adatta alla forma della colonna vertebrale, evitando il mal di schiena durante il riposo. Combina la fermezza del suo nucleo con la proprietà termoregolatrice del viscoelastico, sensibile alla temperatura del corpo e dell'ambiente. Grazie alla sua ottima adattabilità, evita le tensioni muscolari e favorisce un riposo sano e ristoratore. Portate a casa questo modello e scoprite un nuovo modo di godere di un riposo sicuro a casa. Il suo design, la qualità, il comfort e il prezzo lo rendono la migliore opzione nella sua gamma. Nella top 4, Linenspa. Se la fermezza e la morbidezza sono importanti per voi, questo modello di Linenspa, per meno di 160 euro, può essere un ottimo acquisto. Questo materasso ad alte prestazioni, alto 20 cm, combina la schiuma viscoelastica ipoallergenica con la sensazione classica dei materassi a molle, fornendo la perfetta fermezza media in qualsiasi stanza della casa. Questo modello più ampio, a 135 cm x 190 cm, utilizza lo strato di morbida schiuma di memoria per allineare la schiena e alleviare i punti di massima pressione, il che aumenta il comfort. Ha spesse molle in acciaio temperato che forniscono un sostegno e una durata eccezionali. Il suo rivestimento in tessuto, e lo strato sopra le molle, offre uno strato di imbottitura in schiuma sulla superficie per un maggiore comfort. È rifinito per darvi una sensazione molto confortevole, che è compresso in una scatola per una facile spedizione e installazione. Con una valutazione di 4,6 stelle su 5, è la migliore opzione nella sua gamma, ed è stata approvata da più di 75.000 utenti che l'hanno già provata, quindi ne consigliamo l'acquisto. E infine, nella top 5, il materasso in schiuma viscoelastica Zinus con tè verde. Se sei molto esigente quando si tratta della qualità della struttura, dei materiali e del comfort del tuo materasso, questa opzione ad alte prestazioni di Zinus è un best seller. Questo spazioso materasso di 135 cm x 190 cm ha un'altezza di 20 cm e una perfetta e rinfrescante combinazione di tè verde e schiuma di memoria Active Charcoal, che assorbe l'umidità e mantiene la sua forma in modo da svegliarsi senza dolore. Il tè verde, un antiossidante sicuro e naturale, è inserito nella schiuma di memoria per mantenere la freschezza e neutralizzare gli odori. È dotato di un sistema di supporto ortopedico a 7 zone per alleviare la pressione. La sua combinazione di schiuma viscoelastica di 5 cm, insieme allo strato di rinforzo della base traspirante e resistente e all'alta densità di 10 cm, lo rendono il modello ideale per persone di peso medio. È un modello con una resistenza fino a 270 kg che allevia il dolore e garantisce un sonno profondo. Da Best Top, vi consigliamo questa attrezzatura ad alte prestazioni, con la quale potrete godere di un'esperienza eccezionale ogni notte nel comfort della vostra casa. Hai domande su qualche modello? Scrivete nei commenti e vi risponderemo il prima possibile. Grazie per essere rimasto fino alla fine. Se ti è piaciuto il video, sostienici con un like e ricordati di iscriverti per vedere altri video dei migliori top sul mercato. Alla prossima!